1 agosto 2020, partenza da Bogo, Cinceniga, Gordino per il Cimapapè. Trovata anche la neve a 40 gradi all'ombra. Da su Cimapapè. E eccoci in vetta Cimapapè, quelle sono le fale di San Martino. Mogliazza, Civetta, Sorapis, Tofane e parete nord della Marmolada. La Cimapapè è più grande. La Cimapapè, che è bella, è prima di sfrugare. La Cimapapè centrale è ancora la cimapapè, La Cimapapè è stata creata come vera, la Cimapapè è stata creata come croat, ho sapato di piacetano. La Cimapapè è quella che si non incendiò, Miro, ho sapato, e il mercolio di più, Grazie a tutti.